Sì, come? Eppure dovrebbe essere facile. Ma si apre, guarda un po' la tua, si apre. Si apre. Che sciocchi, che... Causate, vediamo a dire che... Disgraziato, maledetto, necrofino, necrofino! Adesso ci vedi a rubare i cadaveri? Mi fai gagliare pure a me, mi porti il morto in casa. Ma qual è il cadavere? Quale cimitero? Allora, alla stazione, era di una vecchietta che è papà, che è papà, papà, papà. Che è papà, che è papà? Che è papà? La vecchietta che è partiva, si era stata una signora omicidi. Oh, San Gemini, aiutami tu, San Gemini, nubile e martire. Ma, ma è morto. Ma tu capisci che qui se si scoprono col cadavere a domicilio andiamo a finire all'ergastolo. Rituriamola, rituriamola così. Rituriamola, come va lì? Vai presto. Rituriamola, stai presto. Rituriamola, facciamo presto. Ma cosa fai? Ma cos'hai fatto l'hai messa? Oddio, lì, a chiacca. Come si fa adesso? Rituriamola dentro. Così. Così, perciò. Come si mette? Stava così, aspetta. Come stava? Io mi ricordo. Stava così. Stava così, sì. Questa stava di qua. Questa è di più. Sì. E non c'entra l'avarice, vorrebbe una segna. Prendi la segna. No, guarda. E la segna. Senti da su. E la testa. Oddio, chi c'era la testa? Sì. Dove l'hai messa? Io, il morto ha bussato. I morti non bussano, cretini. È la padrona di casa. È un momento, signora. Buon giudice, ascoltiamo. Prendi una sedia. Signora, abbia pazienza. È questione di un attimo. Discrizione. Ecco, signora. Permesso? Permesso? Posso? Cosa è successo? Cosa è successo? È successo qualche cosa? Ho sentito dei rumori. No, no, signora. Sia tranquilla. Siccome questa nostra amica è ubriaco, domani deve sposarsi. E allora ci stiamo facendo la barba. Oggi i barbieri sono chiuse. È giovedì. Animali, i barbieri stanno chiuse il lunedì. Oggi è domenica. Arrivederci. Arrivederlo. Oh, questo cadavere per noi è un peso morto.